Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, spero che questo video possa essere utile e possa piacere a tanti di voi. Voglio parlarvi cioè dei miei fondotinta preferiti per i diversi tipi di pelle, visto che vi faccio vedere sempre dei fondotinta piuttosto che altri, però ovviamente io ho una tipologia di pelle, voi che guardate ne avete un'altra, magari un'amica a cui consigliate il fondotinta ce n'è ancora un'altra. Quindi voglio fare un piccolo schemino per consigliarvi i miei fondotinta preferiti, quelli che ho provato fino a questo momento, per ogni tipologia di pelle. Non significa che esistano solo questi fondotinta, ce ne sono tantissimi altri in commercio, quindi magari scriveteci qui sotto nei commenti qual è il vostro tipo di pelle e quali sono i vostri fondotinta preferiti, così appunto leggendo tra i commenti possiamo tutti quanti scoprire altri fondotinta che possono adattarsi alle nostre esigenze. Prima di iniziare con questo video voglio dirvi una piccola cosa, se vi ricordate settimana scorsa nel video Get Ready With Me vi avevo parlato di un'applicazione che stavo iniziando ad utilizzare che si chiama Like To Know, che è praticamente un'applicazione che vi permette di comprare il look della persona soltanto facendo lo screenshot. Il problema è che mi sono resa conto che questa applicazione vi rimanda sempre a dei siti americani, quindi, cioè non sempre sempre, molto spesso, quindi probabilmente non la utilizzerò così tanto. Sto provando ad utilizzare invece Twenty One Buttons, sono sicura che la conoscerete, è praticamente la stessa identica cosa tranne che nel fare lo screenshot, cioè seguite le diverse persone e potete direttamente acquistare il look che indossa la persona, andando direttamente al sito e al capo che la persona tagga. Come funziona? È una specie di sito che contiene dei link di affiliazione, quindi quando voi comprate quel pezzo, la persona che vi ha mandato al sito riceve una percentuale sul vostro acquisto. Per quale motivo ve lo sto dicendo? Per diversi motivi voglio spiegarvi delle cose. Uno, ho un link di affiliazione con Twenty One Buttons che vi lascio qui sotto. Se scaricate Twenty One Buttons attraverso il link che vi lascio qui sotto, mi sosterrete a livello economico perché è appunto un link di affiliazione, vi ripeto, quando voi acquistate tramite un link di affiliazione, la persona che ha il link riceve una piccola percentuale, quindi se volete supportarmi scaricando l'applicazione attraverso il mio link mi farebbe tantissimo piacere. E poi ovviamente se volete seguirmi, sono appunto sull'applicazione e pubblico i miei look sotto Antigone Buttons. Un'altra cosa che volevo dirvi per essere chiara riguardo ai link che sono sotto i miei video, ho scoperto un sito che mi permette di creare dei link di affiliazione di quasi tutte le cose che vedete linkate qui sotto il video. Stessa cosa per Amazon, anche per Amazon ho i link di affiliazione. Che cosa significa? Che se voi acquistate tramite questi link, mi supportate a livello economico anche per mantenere il canale e per permettermi di acquistare sempre cose nuove da farvi vedere all'interno del video. Non siete assolutamente obbligati a farlo, vi ripeto, se vi fa piacere sostenermi, l'unica cosa che potete fare quando fate un ordine potete cliccare su uno dei miei link e entrare nel sito attraverso i miei link e appunto fare l'acquisto in questo modo. Non cambia assolutamente nulla nel vostro ordine, semplicemente dovete entrare nel sito attraverso il mio link se vi va di fare questa cosa. Io se decidete di farlo vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio altrettanto se non volete farlo. Vi parlerò magari di questo argomento in modo più approfondito in un altro video, magari se ci sono persone che hanno il canale che sono interessate a sapere come funziona. Ho chiacchierato già abbastanza, quindi perdonatemi, adesso entriamo all'interno del video. Partiamo con i fondotinta per la pelle secca. Ne ho diversi da farvi vedere, anche perché questa è la tipologia di pelle che si avvicina di più a me. Io ho una pelle normale, però spesso opto per dei fondotinta adatti per una tipologia di pelle secca, perché mi piace che siano anche un pochino luminosi. Primo tra tutti, già lo sapete qual è, è il Bourjois Healthy Mix Foundation. È un fondotinta che per le pelli secche è tipo, non lo so, un miracolo. È l'unico fondotinta che io utilizzo su una pelle secca. Non fa vedere le pellicine, non le mette in evidenza, dura tutto il giorno, ha un effetto naturalissimo tipo seconda pelle. Si stende benissimo, mi piace veramente tantissimo, non ve ne parlo di più perché penso che tra un po' vi disiscriverete dal mio canale solo per quanto vi faccio vedere questo fondotinta. Secondo fondotinta, quello che vi ho fatto vedere ha una coprenza media-medio-bassa, non è alta. Secondo che vi faccio vedere, diciamo, ha le caratteristiche simili a quello di Bourjois, però è molto molto coprente. Si tratta del fondotinta Pro Coverage di L.A. Girl, attenzione, questo qui è la versione High Definition Longwear Illuminating Foundation, cioè non quello matte. Questa è la differenza. Questo è quello matte, questo è quello non matte, ha il packaging, diciamo, di plastica lucida. Questo qui mi piace tanto, dura molto sul viso, è super coprente. L'unica cosa è che tende leggerissimamente a mettere in evidenza le pellicine, quindi se la vostra pelle, oltre che ad essere secca, è molto disidratata e presenta tante pellicine, forse ve lo sconsiglierei, magari questo fondotinta è adatto più, diciamo, una pelle secca normale, appunto, che non presenta tante tante pellicine. Un'altra cosa che volevo dirvi di questo fondotinta è che c'è anche nella versione bianca, che significa che se non volete abbinarli insieme, ma vi serve un fondotinta chiaro per schiarire altri fondotinta che avete, magari sono troppo scuri per il momento, potete prendere il bianco e miscelarlo insieme agli altri colori. Terzo fondotinta per le pelli secche è il Modelsone Runway Foundation. Questo fondotinta non è luminoso come gli altri due, è più satinato, quindi è a metà tra un fondotinta luminoso e un fondotinta opaco, ha un effetto super naturale sul viso. Questo qui va bene anche se avete una pelle mista tendenzialmente grassa, perché, vi ripeto, non è super luminoso, è più un satinato. L'effetto è davvero naturalissimo, quando lo porto sembra quasi che non abbia fondotinta, cioè, veramente, se cercate un fondotinta che non si vede che ce l'avete, questo qui sarà perfetto. Ultimo fondotinta per le pelli secche e super adatto per chi ha un budget limitato è il The Ordinary Serum Foundation. Questo fondotinta è super liquido, quasi acquoso, davvero naturale, facilissimo da stendere. Per le pelli secche trovo sia molto carino. Passiamo ad una pelle mista. Calcolate che voglio dirvi una cosa per la pelle mista. La pelle mista è ovviamente a metà tra una pelle secca e una pelle grassa. Questo che significa che molto spesso le pelli miste possono utilizzare anche cose che vanno bene per le pelli secche o anche cose che vanno bene per le pelli grasse. Dipende da quanto è mista la vostra pelle. Sembra strano, però una pelle mista può essere prettamente secca, avere soltanto delle zone che si lucidano, o al contrario, essere prettamente grassa e avere magari delle zone più secche. Quindi valutate un attimino voi su che fondotinta orientarvi. Io ne ho trovati due che possono andare bene per diverse esigenze. Uno è il Milani Conceal & Perfect. Questo qui lo utilizzo anche io tranquillamente. Cioè, in realtà, li utilizzo tutti quanti ad eccezione di uno, che poi insomma ve lo dico. Però questo qui credo che anche per una pelle normale, o comunque secca, ma che non ha troppe pellicine, può andare bene. Lo sconsiglierei ad una pelle estremamente grassa. È un fondotinta opaco, ma non estremamente opaco. Quindi se avete una pelle che tira fuori tanto olio nell'arco della giornata, può lucidarsi. Coprenza medio alta. È un fondotinta davvero bellissimo. Se avete una tipologia di pelle che vi permette di provarlo, ve lo straconsiglio. Questo è uno dei miei fondotinta preferiti. Dà un effetto davvero molto bello sul viso. E anche se la coprenza è alta, rimane comunque naturale. Altro fondotinta che voglio consigliare alle pelli miste è il Wet n Wild Photo Focus Foundation. Questo fondotinta va bene anche per molti con la pelle grassa, però quello che ho notato e quello che mi avete detto nei commenti su tutti i vari video in cui lo utilizzavo, è che tanti che hanno la pelle grassa e utilizzano questo fondotinta, riscontrano che durante la giornata tende a lucidarsi. Quindi potrebbe andare bene anche per una pelle grassa, però ve lo consiglio di più per una pelle mista. Questo qui, al contrario di quello di Milani, è estremamente matte e si asciuga molto in fretta. Significa che quello di Milani avete tempo per lavorarlo, perché si asciuga dopo un po' che lo mettete sul viso, ma vi ripeto, non è un effetto estremamente asciutto, come invece è questo qui. Questo dovete sbrigarvi a lavorarlo, perché si asciuga velocissimamente. Infatti delle volte, l'applicatore è fatto in questo modo, delle volte lo applico su un pezzo di viso, lo lavoro e poi faccio un pezzo alla volta, proprio per quanto si asciuga velocemente. E, vi ripeto, l'effetto è estremamente opaco. Però su di me un pelino tende a lucidarsi nella zona del naso. Passiamo ora alle pelli grasse. Primo fondotinta che vi dicevo è l'unico che non utilizzo in tutti questi che vi sto facendo vedere, è il Model Zone Runway Matte Foundation. Praticamente è la versione matte del fondotinta che vi ho fatto vedere prima. Questo qui è estremamente matte, estremamente coprente, però allo stesso tempo fa un po' di spessore sul viso, cioè non dà un effetto naturale come altri fondotinta che vi faccio vedere tra un secondo. Se vi piace un effetto davvero, davvero, super coprente, questo fondotinta fa per voi. Se invece vi piace un effetto più naturale, occhio perché questo fondotinta si vede un po' applicato. Secondo fondotinta per le pelli grasse è il Maybelline 24 Hours Super Stay Full Coverage Foundation. Questo fondotinta è super consigliato per le pelli grasse, è molto coprente, ma a differenza del Runway Foundation di Model Zone è un pochino più fino, meno spesso come consistenza, quindi non vi dà l'effetto di wow, si vede che è il fondotinta, però allo stesso tempo è comunque molto coprente, quindi se esagerate un po' si vede che ce l'avete sul viso. Anche questo trovo sia estremamente matte, però nell'arco di una giornata un po' lunga questo qui può lucidarsi, magari a metà giornata dopo 8 ore dovete fare un ritocchino. Se avete la pelle grassa probabilmente sapete che succede questo con la maggior parte dei fondotinta, cioè con quasi tutti i fondotinta che siano il più matte del mondo, a metà giornata probabilmente dovrete fare un ritocchino di cipria. Però questo qui di Maybelline credo sia davvero un bellissimo fondotinta, l'ho consigliato anche ad una mia amica, si è trovata molto bene. Ultimo fondotinta che voglio consigliarvi per le pelli grasse è il Revlon Color Stay. Questo qui è quello per le pelli da miste a grasse. Occhio perché c'è anche una versione per pelli da secche a normali, quindi prendete la versione giusta adatta a voi. Questo fondotinta mi piace davvero tantissimo, secondo me se avete una pelle grassa questo fondotinta è perfetto per voi. Ha una coprenza medio alta, non super altissima come questo qui ad esempio, però fa davvero un bel lavoro per coprire quello che dovete coprire. A differenza degli altri due che sono leggermente più spessi, questo qui risulta molto più naturale sul viso e rimane estremamente opaco per tutto il giorno. Cioè credo che tra tutti questo sia il fondotinta che si lucida di meno. Se avete una pelle grassa dovete provare questo fondotinta. La cosa che mi piace è che non dà un effetto estremamente asciutto sul viso, che magari può mettervi in evidenza alcune pellicine, può mettere in evidenza i pori, può mettere in evidenza una pelle non estremamente liscia. Questo qui rimane opaco, ma non ve lo so quasi spiegare, cioè dà un effetto salutare. Anche questo dà un effetto molto naturale sul viso, quasi effetto seconda pelle, però è coprente allo stesso tempo. Credo sia davvero un bellissimo fondotinta. Questi erano tutti fondotinta per le diverse tipologie di pelle che vi ho fatto vedere in questo video. Ricordatevi di scrivere quali sono i vostri preferiti in un commentino qui sotto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. E se così è stato ricordatevi di spolliciare o di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. Se decidete di supportarmi attraverso i link, io sarei davvero contentissima. Vi ringrazierai davvero con tutto quanto il cuore. Spero che appreziate anche il fatto che io sia sincera sotto questo punto di vista, non facendo finta che non ci prenda niente. Cioè, questo fa comunque parte del mio lavoro. Quindi spero che appreziate anche la mia sincerità. Vi mando un grandissimo bacio e un abbraccio gigante come al solito. Spero di potervi incontrare tutti quanti, prima o poi di darvi un grandissimo abbraccio. E ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!